Ciao appassionati di astronomia! Oggi ci imbarchiamo in un viaggio affascinante attraverso il Sistema Solare, esplorando l'intrigante storia del pianeta Vulcano, una narrazione che si sviluppa tra scoperte, sfide e rivoluzioni scientifiche. Nel 1846, gli astronomi si trovarono di fronte a un enigma nel tentativo di predire l'orbita di Urano. Le discrepanze osservate portarono il matematico Leverrier a ipotizzare l'esistenza di un nuovo pianeta, culminando nella scoperta entusiasmante di Nettuno. Tuttavia, dirigendo i loro telescopi verso Mercurio, gli astronomi notarono somiglianze nelle irregolarità orbitali. Levi, utilizzando lo stesso approccio matematico, propose l'esistenza di un altro pianeta, tra il Sole e Mercurio, chiamato Vulcano in omaggio al dio romano del fuoco. L'inizio della ricerca di Vulcano scatenò una vera caccia, con astronomi come Edmond Modest e le Scarbolt dedicati a individuare il planetario sfuggente. Furono effettuati i tentativi durante i transiti solari, ma molte osservazioni portarono a confusione con le macchie solari e le stelle. La saga continuò per anni fino a quando Albert Einstein, con la sua rivoluzionaria teoria della relatività, entrò in scena. Rinterpretando la gravità come la curvatura dello spazio-tempo causata da oggetti massicci, Einstein eliminò la necessità del pianeta Vulcano per spiegare le orbite di Mercurio. La relatività generale fornì una spiegazione precisa delle discrepanze orbitali, relegando Vulcano all'oblio. Einstein cancellò così l'idea del pianeta vulcaniano dalla storia del Sistema Solare. Questa storia illustra come la scienza progredisca, sostituendo vecchie teorie con concetti più avanzati. Anche Levy, un brillante matematico, era limitato dalla comprensione della gravità newtoniana nel suo tempo. Spero che siate stati coinvolti in questo incredibile viaggio attraverso il Sistema Solare, ricco di sfide e scoperte. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi per altri contenuti astronomici. Ah, e non perdete il link nella descrizione per votare per il premio Ibeste e assicurarvi il vostro biglietto per l'evento, Eclipsa Joao Pessoa. E questo è tutto, amici. Non vedete l'ora del prossimo video. Siamo insieme nella continua ricerca della conoscenza scientifica.